Trieste si prepara a celebrare il 72esimo anniversario della liberazione con un programma di manifestazioni che culminerà, come di consueto, con la cerimonia in programma il 25 aprile alle 11 nella risiera di San Sabba. Qui si terrà la solenne commemorazione con la deposizione di corone dall'oro, la celebrazione dei riti religiosi cattolico, evangelico, serbortodosso, greco, ortodosso ed ebraico e gli interventi delle autorità. Saranno presenti i rappresentanti e i labari delle varie associazioni combattentistiche di partigiani e deportati. La cerimonia sarà completata dal concerto corale dedicato a tutte le vittime della risiera a cura del coro partigiano triestino Pinko Tomasic. Torna nella tredicesima edizione la rassegna cinematografica per non dimenticare dal 19 al 26 aprile al circolo cinematografico Charlie Chaplin di Via Valdirivo 30 con due proiezioni al giorno, una alle 9 riservata alle scolaresche su prenotazione e una alle 20 e 30 per tutti a ingresso libero. Quattro i film in programma. La memoria degli ultimi di Samuele Rossi il 19 aprile, La notte di San Lorenzo di Paolo e Vittorio Taviani il 21, Davanti a lui tremava tutta Roma di Carmine Gallone il 22 e Fuga per la vittoria di John Huston il 26. Fra le altre iniziative ricordiamo lunedì 24 aprile alle 18 alla risiera di San Sabba la presentazione della biografia di Zora Perello con letture e interventi in italiano e sloveno. La chiusura delle manifestazioni si sposta in piena estate il 2 luglio sempre alla risiera con il festival Victor Ullman si esiberà l'orchestra ABIMA diretta da Davide Casali.